ok oggi lanciamo un nuovo segmento del podcast si chiamerà pascale anal iza i media e niente noi chiamiamo a pascale e poi lasciamo la palla totalmente a pascale che si vedrà praticamente un telegiornale oggi abbiamo scelto quello della rai delle 7 di mattina del 20 gennaio 2021 cioè oggi e lui niente cercherà di destrutturare tutto il telegiornale vediamo come funziona questa cosa intanto vado a prendere il telegiornale poi passo la palla a pascale e faccio pure rima pascale preparate allora vediamo dovrebbe sentirsi il telegiornale vediamo intanto ci parte ok tutto è pronto a momenti arriva pure pascale intanto mannamo la sigla anzi no niente sigla mannamo direttamente pascale visto che sta già qua ok io poi chiuderò il programma più tardi intanto peccato per pascale appena ho sentito insomma dategli 10 secondi e e arriva insomma va a dopo buongiorno dalla tg1 il governo ottiene la fiducia anche alla senato ma non arriva la maggioranza assoluta 156 voti a favore tra cui tre dei senatori a vita e due arrivati dalle fila di forza italia che ha e anzitutto più cedici fila con dalle fila vabbè facciamo nanzi quello cappotto è carino tiene una faccia però tipo non lo so non ce la vedo convinta senti ma rete c'è cose che ha dito buongiorno dalla tg1 il governo ottiene la fiducia anche alla senato ma non arriva la maggioranza assoluta 156 voti a favore tra cui tre dei senatori a vita e due arrivati dalle fila di forza italia che ha praticamente innanzitutto queste cose che dicono la televisione non ci spiegano mai che cazzo sono anche perchè ci invoco non lo so da una cristiana di 60 70 anni ci dico ma che cazzo è della fiducia? dici eh non ce l'ho dato fiducia hai capito? non ce l'ho dato fiducia tenta io non fiducia che cazzo significa fiducia? non ce lo sapono anzi sono queste le cose che mi cagano lo cazzo la televisione è che tutti facendo finta di sapere cos'è della fiducia e poi arriva lo studioso della pizza mia della politica della puttana della mamza e dice è la fiducia ed quando al senato c'è il mio partito ma fa moca e c'è da muerto capito? la chiamano a fanno quello per forza comunque quello che ti dici è questa è solamente che hanno dato la fiducia ma non è detrotta la maggioranza quindi che cazzo significa? c'è la fiducia o non c'è la fiducia? avete visto la cosa che mi faccio incazzare? e citta ci stiamo con uno che sta e dice io poi scordo devi sapere che ho la fiducia va a fa moca a mamma da cuore a te che mi sa ti citta diciamo un'ansia dalle fila dalle fila troppe FNQ per te come? dalle fila e a vita e due arrivati dalle fila di Forza Italia che li ha espulsi c'è così che ti dici? c'è così che ti dici? di Forza Italia che li ha espulsi che li ha espulsi? che cazzo significa? hai espulsi c'è cosa? c'è cosa? la puttana da mamma da vabbè va forse non ci manca incazzare con se tante però capito? due dalle fila anzi dalle fila come cazzo dici di Forza Italia che li ha espulsi ci ha espulso c'è cosa? no ma senta la redotta la frase 156 voti 156 voti ottiene la fiducia anche al Senato ma non arriva alla maggioranza assoluta 156 la fiducia le file troppe F non lo so le vanno estri non lo so forse mero la Puglia Nord oppure mero Lazio dai dicono la fiducia vabbè comunque carne ottiene la fiducia anche al Senato ma non arriva alla maggioranza assoluta 156 voti a favore tra cui tre dei senatori a vita e due arrivati dalle fila di Forza Italia che li ha espulsi che li ha espulsi c'è cosa ha espulsi mamma va bene ma cioè poi dicono che io non ci posso parlare in galletto perché non ci si capisce questo italiano vedi c'è cazzo significa 156 voti a favore tra cui tre dei senatori a vita e due arrivati dalle e ci potete mettere le commenti qua sotto scrivete che cazzo significa sta cosa la fiducia anche al Senato ma non arriva alla maggioranza assoluta 156 voti a favore tra cui tre dei senatori a vita e due arrivati dalle fila di Forza Italia che li ha espulsi che li ha espulsi quindi le senatori hanno espulso a cui di Forza Italia che li ha espulsi cioè i giornalisti non stanno parlando in italiano dicono che io non stanno parlando in italiano comunque chiunque sta facendo un maestrino ma sta mora domani quindi state città che è meglio diciamo 149 dicci le assenzioni espresse da Italia viva dunque il governo 149 dicci le assenzioni espresse da Italia c'è così che dita 149 149 dicci le assenzioni espresse da Italia viva dunque il questo è italiano vede dicci l'estero ma la casa dice dicci l'estero muerto 149 dicci le assenzioni dicci l'estero muerto 149 dicci le assenzioni espresse da Italia viva dunque il governo può andare avanti ma in una condizione di estrema debolezza ora tweet il premier conte l'obiettivo è rendere più solida la maggior rendere più solida il premier conte l'obiettivo è rendere più solida la maggioranza roberto quinzari l'obiettivo è rendere più solida il premier conte l'obiettivo quando le vedi 3000 voto perché la televisione non c'è mai la possibilità che vai reto e ti vedi a reto le facce ti senti buone le frasi che dicono non ti rendi conto quanto apputtanare dicono perché ormai è passato stai in cucina e dici una cosa a ziana da tana da mamma da assorta a chiunque intanto hanno passato sotto l'occhio queste cose non è che stanno attaccate la faccia e si sentono 10 voto lo stesso messaggio e ti rendi conto che a questa pare che tu dici come la poesia a pasca che i piccini ne chiano sobre le seggi ora tweet il premier conte l'obiettivo è rendere più solida la maggioranza roberto qualche sluecchiera ha detto ci ho fatta oggi di questa puttanata manneggia la puttanata nonna comunque non c'è colpa della cristiana è detto a fa guido che stai scritto sopra quel foglio o allo foglio che stai vedendo la videocamera che la stai vedendo in questo momento questo è un pizzerrone con le foglie in manica che stai girando comunque cerchiamo di capire c'è Cristo che stai dice tutta questa apertura del giornale solitamente l'apertura del giornale è sempre la cosa più importante perché in questo di domenute non cerchiamo che fanno rimanere più interesse possibile cristiana che non la vedè quindi ovviamente da sparano tutte le puttanate più assurde così dicono ma chi è vero queste 10 minuti di giornale hai capito? Le avviva dunque il governo può andare avanti ma in una condizione di estrema debolezza quindi lo governo può scendere ma è una condizione di estrema debolezza c'è significa? non significa non cazzo ancora perché dice sì ma ma è debole tipo capito la pizza con una situazione di estrema debolezza non ci può arrascare e ma lo governo praticamente non ci può arrascare però non è così perché tutto quanto vuole tranquillamente in governo eccetera eccetera perché non ci spiegano come funziona cioè cosa significa estrema debolezza cazzo significa estrema debolezza ora tweetta il premier Conte ora tweetta il premier Conte l'obiettivo è rendere più solida la maggioranza Roberto Chinzari è rendere più solida la maggioranza apposta quanto abbiamo fatto qua 40 secondi non ha detto niente praticamente sentivo Roberto Chinzari qua la puttana della nonna se ce dici senatori favorevoli 156 i numeri sono importanti ma di più la qualità del progetto politico parole pronunciate al senato c'è cosa aspetta i numeri sono importanti ma di più la qualità del progetto politico parole pronunciate al senato che cosa ma di più la qualità del progetto maggioranza Roberto Chinzari e poi dico sempre a me che io non faccio parlare italiano cioè veramente c'è cazzo significato 156 i numeri sono importanti ma di più i numeri sono importanti ma di più ce vuoi dici sono importanti ma di più la qualità del progetto politico parole pronunciate al senato veramente cioè chiunque chiunque tutti qui sopra la faccia della terra diciamo proprio della testa diciamo della taglia ma diciamo proprio della terra che si pensa che queste cose che dicono in televisione sono serie e un grandissimo cuglione proprio nel cuore chiunque dà serietà a questi personaggi c'è cazzo che ti dice veramente ma di più la qualità del progetto politico i numeri sono importanti ma di più la qualità del progetto politico parole pronunciate al senato veramente politico parole pronunciate al senato ma di più la qualità sì pascalo fa sempre nelle retennanzi non si arriva le retennanzi non mi hai cagato lo cazzo vedo a soffrire con me ma vedo a capire c'è puttanate di Cristo che sto avvenendo sopra la televisione la mattina della sera gugioni i numeri sono importanti ma di più i numeri sono importanti ma di più la qualità del progetto politico parole pronunciate al senato la qualità del progetto politico parole pronunciate al senato c'è cazzo questo è legge sto guggione questo è puro legge sto guggione adesso è incassata la fiducia con 156 voti una maggioranza questa cosa vedete se sentite la voce di questo pizzaron di Chinzari qua Roberto Chinzari Chinzari le muerte 2 ci sentite bene come face la voce si sente no? le c'è viste pizzaron vanno pure a scuola comparano a parlare così non ce l'avete capito ancora? non ce l'avete capito? c'è preso i casilli veramente i numeri sono importanti ma di più la qualità del progetto politico parole pronunciate al senato adesso è incassata la fiducia con come ho capito è sopra e poi vi bacio e poi vi bacio e poi vi sopra una vaffamocca quella strazza cuglioni di mamma parole pronunciate al senato adesso è incassata la fiducia con 156 voti una maggioranza relativa una maggioranza relativa deve costruirlo il presidente del consiglio deve costruirlo del progetto politico parole pronunciate al senato adesso è incassata la fiducia con 156 voti una maggioranza relativa conte deve costruirlo ok conte da costruire il progetto politico questo è un mio capito vai vai niente vai è un progetto politico da costruire io le prego niente il presidente del consiglio lascia palazzo con 156 voti una maggioranza relativa conte deve costruirlo il presidente del consiglio prego niente il presidente del consiglio il presidente del consiglio lascia palazzo madama al termine di una lunghissima giornata ongussima cioè lo facile proprio dopo dice non ci sono raccomandati facile colloquio quando vai alla rai o vai a sky e dice vitingo parlano poco, dice presente, durissimo, apposta, assunto, cucchione. Ma c'è sempre su un bocca una pizza di gomma? C'è veramente? Dovevo un viso. Conte deve costruirlo. Il Presidente del Consiglio lascia Palazzo Madama al termine di una lunghissima giornata. Ora l'obiettivo è rendere ancora più solida questa maggioranza, scrive su Twitter. Quindi ha detto praticamente la stessissima cosa che ha detto quell'altra scema di prima. La stessa cosa dice in t'anota maniera ma è sempre la stessa cosa. Non è che dice che... La stessa cosa, in modo da costruire un cazzo di governo solido. Non ha un minuto da perdere. Subito al lavoro per superare l'emergenza sanitaria e la crisi economica. Priorità piano vaccini, ricoveri plan, decreto ristori. Qua potremmo vedere l'arte di questo cristiano come legge praticamente le cose. Perché qua stai proprio al tuo tweet da... Tweet, twitta, twitta. Non c'è stato scritto Twitter, sopra questo... Vabbè comunque va. Priorità piano vaccini, ricoveri plan e di ristori. Qua potremmo vedere l'arte di questo cristiano come legge le cose, sentite. Priorità piano vaccini, ricoveri plan, decreto ristori. Non c'è stato scritto sopra... Sopra twitta qua, come lo chiamano. Non c'è stato scritto... Come da fare, sopra e sotto. Non faccio tutte le cose solo solo, no? Sanitaria e la crisi... Subito al lavoro per superare l'emergenza sanitaria e la crisi economica. Priorità piano vaccini, ricoveri plan. C'è stato scritto, sì, ma in televisione si parla così... Eh, in televisione so' tanta cuglioni. Priso. Oh, me che... Sanitaria e la crisi economica. Priorità piano vaccini, ricoveri plan, decreto ristori. Nei suoi interventi al Parlamento... C'è stato scritto, sì, adesso metto in te... Nei suoi interventi al Parlamento... Nei suoi interventi al Parlamento con... Nei suoi interventi al Parlamento con...